Alla ricerca di dame, cavalieri e fantasmi, prosegue la webserie Il Filo Rosso. Da oggi è online la puntata numero 5 del format ideato d'editoriale Libertà, per promuovere il portale turistico scopripiacenza.it. L'incontro di Giulia con Andrea, i due protagonisti, sembra ancora lontano. Il ragazzo piacentino, amico di penna della giovane e inventore di Indovinelli a tema Piacenza, sta tracciando un viaggio ricco di sorprese attraverso il territorio. Dopo le tappe in Alta Valtrebbia, la sua fedele bicicletta riporterà Giulia verso la pianura. L'ultimo indizio parlava di un viaggio nel tempo, sulle tracce di Pietro Zanardi Landi. Tutti i dettagli nella nuova puntata disponibile sul canale YouTube Tele Libertà Piacenza oppure sul portale scopripiacenza.it.